oh che bel tramonto oh Groovy sembra che Phoebe voglia andare a Luna Park sai cos'è? dai vai a vedere sono sicuro che ti piacerà dai Phoebe ce la puoi fare oh no Phoebe ha preso solo quattro paperelli ma ne servivano cinque dai Phoebe sei stata bravissima dite? non credo che riuscirete a ingannarlo attento Groovy sei troppo piccolo per questa attrazione ti può girare la testa povero Groovy te l'avevo detto ehi Phoebe dov'è la giostra? no Phoebe non essere triste sicuramente Groovy può aiutarci Groovy perché non ti trasformi in una giostra? così Phoebe e gli altri bambini si possono divertire no Groovy assomiglia al chiosco dei gelati ma con i cavalli no i cavalli servono perché ci possano salire i bambini e adesso giriamo ah che carini quando dormono che profumo delizioso sembra che Groovy non riesca a resistere no Groovy dobbiamo aspettare che siano tutti a tavola perché non vai a svegliare Phoebe? niente prova in maniera più affettuosa forza Phoebe è ora di mangiare il broccolo è una verdura molto salutare Phoebe devi assaggiarlo no Groovy questo è il piatto di Phoebe le piacerà sicuramente se solo lo assaggerà vero bambini? oh no Phoebe è morta di fame certo non ha forza perché non ha mangiato la verdura accipicchi e Groovy che forza ti hanno dato i broccoli tranquilla Phoebe c'è sempre una soluzione ma come torniamo a casa? mmm che buono ricordate bambini le verdure sono alimenti sani e saporiti che vi daranno tutta l'energia necessaria per non smettere mai di giocare ehi state andando al mare? fantastico che cosa avete lì dentro? un ombrellone un asciugamano la crema solare i braccioli i giochi un galleggiante benissimo avete proprio ciò che serve per trascorrere un giorno favoloso broccoli un calorifero un giaccone Groovy non ti servono queste cose per il mare no Groovy prima devi metterti la crema non vorrai bruciarti vedi come fa Phoebe oh sembra proprio divertente e quello cos'è? uno squalo? oh era solo un delfino i delfini sono molto simpatici perché non giocate con lui? ehi bambini credo che vi stiano chiamando per bacco sembra che il tifo di questa casa sia diviso fra Real Madrid e Barcellona almeno l'amore li unisce bambini dove sono Groovy e Phoebe? povera Phoebe deve essere una decisione difficile bambini voi cosa pensate che dovrebbe fare? che idea fantastica oh no queste forbici non sembrano tagliare bene Groovy perché non l'aiuti? oh bambini che emozione oh bambini che emozione oh bambini che emozione No, Groovy, attento Pensano che tu sia lui Scappa Groovy, Phoebe, non si gioca a palloni in un posto così? Sì State attenti o romperete qualcosa Perché non lasciate perdere la palla e vi godete il museo? A voi piacciono i dinosauri Pops, non sembri normale Ti senti bene? Bambini, voi avete capito che cos'ha? Bambini, voi avete capito che cos'è? Bambini, voi avete capito che cos'è? Un camion Un overboard Una giostra Il broccoli Un oveto con sorpresa Un estintore Bella mossa Ma adesso è ancora più arrabbiata Prova ad accecarla con il flash Bambini, secondo voi in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per spaventare la mugna? No, Groovy In un dinosauro Che cosa abbiamo imparato, bambini? Niente palloni nei musei Che bella giornata per una passeggiata Fibi adora gli ovetti con sorpresa Non si sa mai cosa c'è dentro Groovy, trasformati in qualcosa di utile per prenderlo Non si sa mai No, Groovy Serve qualcosa su cui Fibi possa salire Ecco, Groovy Prova con una scala Che bella squadra Vediamo cosa c'è dentro No, Groovy No, Groovy Non è un broccolo Non si mangia neanche È un albero giocattolo Torniamo a casa E mangiamoci un buon piatto di verdure Che buono What are you doing? Are you trying to say something? Oh, yes Subscribe, kids Groovy the Martian Official Channel No, no 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 Grazie a tutti.